cari pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi che siete in questo momento in ascolto questa mattina a tomaggio leggeremo negli atti degli apostoli al capitolo 26 il verso 20 dove l'apostolo paolo nel parlare afferma prima quelli di damasco poi a gerusalemme e quindi per tutto il paese della giudea e tra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a dio facendo opere degne del ravvedimento c'è innanzitutto un impegno che viene dimostrato da parte dell'apostolo paolo e che è una conseguenza del grande mandato che gesù diede ai suoi discepoli grande mandato del quale certamente gli venne a conoscenza e che lo spinse a dare la sua vita affinché il messaggio di cristo potesse raggiungere tutte le nazioni che allora erano sulla faccia della terra conosciuta l'impegno dell'apostolo fu veramente straordinario e venne svolto nonostante le tante difficoltà che dovette affrontare certamente non ebbe una vita facile non ebbe una vita aggiata non ebbe una vita caratterizzata dal lusso ma ebbe una vita della quale non si pentì tant'è che alla fine dei suoi giorni poteva affermare con certezza che egli sarebbe entrato nella gloria celeste avrebbe ricevuto la corona della vita eterna e questo mandato che l'apostolo ricevette che portò avanti con impegno è lo stesso mandato che ogni credente ha ricevuto e che ancora noi dobbiamo portare avanti con impegno e con quell'unzione che viene dall'alto l'unzione dello spirito santo il battesimo nello spirito santo è infatti proprio questo scopo è vero esso si manifesta con il segno iniziale delle lingue ed ha come effetti collaterali passatemi questo termine sicuramente improprio quello di servirsi dei credenti anche per l'esercizio di doni e di ministeri ma ricordiamoci che esso è dato innanzitutto affinché si renda testimonianza in giudea in samaria e fino all'estremità della terra e se l'apostolo paolo fece questo lo fece certo perché volle ubbidire al grande mandato e questo è un punto di partenza ma lo fece anche perché quel fuoco che si era acceso nella sua vita nei giorni in cui era stato riempito dall'alto lo spinse a raggiungere ogni città dove potè andare e a dire che gesù cristo è il salvatore del mondo c'è quindi un incoraggiamento ma anche un ammonimento per tutti quanti noi dobbiamo annunziare l'evangelo e dobbiamo ricercare quella pienezza e se l'abbiamo ricevuto permettere a quella pienezza di servirsi di noi per poter essere testimoni efficaci della sua santa e benedetta parola con cosa consisteva la predicazione dell'apostolo paolo da quello che leggiamo in questi passi o meglio nel verso che abbiamo preso come spunto in questa mattina egli diceva predicava alle nazioni che si ravvedessero e si convertissero a dio facendo opere degne del ravvedimento un messaggio che sembra quasi lontano nel tempo purtroppo dobbiamo ammetterlo oggi si parla poco di ravvedimento e conversione si presenta a dio quasi come una sorta di genio della lampada che esaudisce i nostri desideri che risolve i nostri problemi e io sono certo che dio è potente a risolvere ogni problema a guarire da ogni malattia credo che il signore sia capace anche di far tornare in vita coloro che sono morti sono certo che il signore ascolta le nostre preghiere e permette che i nostri buoni desideri e propositi possano trovare compimento nei tempi che lui ha stabilito ma credo che l'uomo che non conosce la grazia abbia innanzitutto bisogno di sapere che è necessario se vuole salvare l'anima sua che è la cosa più importante ravvedersi e convertirsi è scritto sin dall'antico testamento isaia affermava lasci l'empio la sua via l'uomo inique i suoi pensieri e si converta al signore che avrà pietà di lui al nostro dio che non si stanca di perdonare è un messaggio che venne predicato anche da giovanni battista tant'è che egli battezzava proprio in vista del ravvedimento e a quanti si avvicinavano per essere immersi nel giordano egli diceva fate dunque frutti degni del ravvedimento e non dite a voi stessi noi abbiamo per padre abramo perché io vi dico diceva giovanni battista che dio da queste pietre può far sorgere dei figli di abramo sì il ravvedimento era ed è qualcosa ancora oggi di necessario ed è qualcosa che quando si manifesta è un segno evidente della salvezza che si è concretizzata nella vita di colui che ha accettato il messaggio dell'evangelo infatti quando zaccheo ebbe il desiderio di conoscere cristo se ricordate egli salì su un albero un sicomoro e perché aveva proprio questo questa volontà poter vedere il signore e il signore lo chiamò gli disse zaccheo presto devo venire a casa tua e zaccheo preparò tutto per accogliere il maestro e quando era lì presente egli si alzò e disse davanti a tutti o io do la mia età dei miei beni a poveri se ho frottato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadrupo e dinanzi a queste parole che sono un evidente sintomo del ravvedimento e della conversione gesù disse oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche questo è figlio di abramo dio ci dia grazie cari dio ci dia grazie di predicare questo tipo di messaggio e anche di viverlo nella nostra vita perché del ravvedimento abbiamo tutti bisogno sia coloro che ancora non hanno conosciuto la grazia sia quanti l'abbiamo conosciuta perché non abbiamo raggiunto la perfezione e quindi ci sono delle cose dalle quali ancora ci dobbiamo separare allontanare dalle quali ci dobbiamo ravvedere c'è necessità di una continua conversione nella nostra vita affinché l'immagine di cristo possa essere piena in noi e stamattina questo vogliamo chiedere signore aiutaci ad essere come paolo testimoni della tua grazia e a vivere ogni giorno una vita nuova affinché gli altri possano vedere che tu hai compiuto un miracolo trasformandoci e rendendoci delle nuove creature che la pace la grazia l'amore e la presenza di dio siano con noi ancora oggi dio ci benedica